esattamente un anno fa usciva celle 10 un rossetto liquido edizione limitata mi avete chiesto tantissimi di farlo tornare ma siccome era un'edizione limitata ho deciso di non far tornare esattamente celle 10 ma di cambiare colore fare comunque un colore bellissimo soprattutto per le festività e così è nato santa claio questo bellissimo intanto questo è il pack secondario che come vedete è anche questa in edizione limitata è un color rosso ciliegia dal sottotono amaranto vi piacerà tanto quanto celle 10 sono sicura perché è veramente un colore fantastico è sempre un rossetto metallizzato dal finish opaco ve lo faccio vedere applicato prima lo faccio vedere anzi qui vedete molto bello molto pieno come colore come tutti i nostri liquid love questo quindi è santa claio il nome ci piaceva tantissimo secondo me era perfetto per ridere anche un pochino in questo periodo un pochino così è un bellissimo color ciliegia santa claio is coming to you quest'anno edizione limitata quindi una volta che sarà finito non ci sarà più vi mando un bacione se lo volete scoprire lo trovate nello shop grazie